Il ponte di Firenzuola, un'opera attesa da tempo, cosa riporterà nel territorio? Riporterà la possibilità a queste famiglie di riaccedere alle proprie abitazioni in modo corretto. Adesso sono costretto a fare dei percorsi alternativi molto difficoltosi, anzi guardando il fiume spesso e quindi sarà un ritorno alla normalità per queste, anche se poche famiglie, che credo abbiano il diritto dopo due anni abbondanti di ritornare a collegarsi con il mondo in modo decente. Quali saranno i tempi per l'inizio, quanto durerà e quanto costerà? L'opera complessiva purtroppo costa 274 mila euro, grazie al contributo della città metropolitana andiamo a raggiungere il completamento del finanziamento, quindi dopo questo atto faremo il progetto pronto, il progetto esecutivo, quindi faremo la gara d'appalto. Considerando i tempi della gara e dell'esecuzione, l'obiettivo è entro la fine dell'estate di arrivare a conclusione dell'opera, nell'autunno di arrivare all'esecuzione dell'opera in modo definitivo, in modo da fargli affrontare l'inverno in modo decente. Quindi 275 mila euro, ora con questi 40 sono coperti dal resto dei fondi comunali che abbiamo sostanzialmente bloccato qualsiasi altro tipo di investimento, racimolando le cifre su tutti i capitoli, però questa diventa l'opera principale per cui non si poteva fare altrettanto, grazie a questo contributo riusciamo ad arrivare a copertura integrale dell'importo.